Passato il ferragosto, sta passando l'estate, problemi ancora per il porto di Giulianova, i fondi ancora arrivano e i lavori ancora partano. Enormi difficoltà per il porto di Giulianova, sono più di tre anni che i lavori sono fermi, parliamo del braccio nord, parliamo dell'insabbiamento ma soprattutto dei lavori legati al Fondo Europeo per la Pesca. Sono oltre un milione di euro fermi da anni per una serie di litigi tra i partiti del centrodestra nella giunta regionale, in particolar modo la Lega e Fratelli d'Italia. All'interno dell'ente porto non è rappresentato nessuno del mondo della marineria e ci sono tantissime difficoltà per realizzare queste opere che sono state già finanziate e già progettate. Parliamo dei servizi igienici, parliamo delle tettoie per i pescatori, parliamo delle torri faro. I tempi scadono a settembre, entro settembre il 50% dei lavori devono essere realizzati altrimenti noi perdiamo fondi importanti per la marineria e soprattutto per il porto strategico di Giulianova. Messe in ginocchio ancora di più dal fermo Pesca e dalla caro carburante. Assolutamente sì, dal caro carburante in maniera particolare. Sono riusciti attraverso una risoluzione a mettere in campo 300 mila euro del consiglio regionale ma sono assolutamente insufficienti per il caro gasolio e soprattutto per i problemi legati alla pesca, all'insabbiamento, ai problemi di questo settore in maniera specifica.